Il consigliere Iocolano è ex sindaco di Ventimiglia, si chiude forse il cerchio oggi con questa sua conferenza stampa oppure ci saranno ancora dei problemi secondo lei nei prossimi giorni? Questo non lo so, però noi oggi ci tenevamo a dire la nostra per quello che è, insomma qua si sta creando una polemica sul nulla quando in realtà bisognerebbe avere un atteggiamento di responsabilità nei confronti di chi viene a investire nella nostra città e chi viene investire così tanto. Noi abbiamo approvato un atto di indirizzo politico votato anche dall'opposizione che non era tenera con noi, un atto di indirizzo politico che quindi non ha bisogno di pareri tecnici da parte dei dirigenti per dire questo progetto ci piace, è interessante per la città e iniziamo la fase poi quella amministrativa che poi si chiama accordo di programma, variante urbanistica piuttosto che riqualificazione urbana, poco importa perché questa polemica insomma non porta da nessuna parte, c'era una normale, naturale interlocuzione tra gli uffici come c'è stato anche per il discorso del porto, per il discorso del Grimaldi Garden per capire quelli che erano le possibilità migliori. Come abbiamo detto in consiglio comunale questa era una pratica all'inizio ed era ancora in una fase embrionale, quindi decidere poi il percorso oggi non cambia nulla, non fa perdere del tempo e non si può dire che si ricomincia tutto da capo, non è assolutamente così. Quindi inviterei l'attuale sindaco a non creare delle polemiche ad arte per poi intestarsi le pratiche perché a nessuno interessa che se le intesti Ioculano piuttosto che Scullino, l'importante è che le pratiche vadano avanti, ci sono tutte le condizioni per farlo senza far polemiche perché serve solo a scappare gli investitori. Però come ha detto ieri l'assessore Scaiola non c'è nulla di bloccato perché loro devono ancora esaminare il progetto ma dal punto di vista proprio formale, il progetto deve essere protocollato, oggi abbiamo un masterplan, quello che avevamo noi era un masterplan, quindi insomma non si può dire che c'è qualcosa di bloccato, qualcosa è stato respinto, che è tutto da ricominciare, no, noi abbiamo visto quello che era il masterplan, abbiamo parlato con i comitenti, con i privati e gli abbiamo detto a questo punto, visti questi caratteri generali del progetto noi riconosciamo anche un interesse pubblico, quindi iniziamo a fare sul serio, questo era il senso delle cose e poi adesso bisogna farlo, quindi insomma che lo facciano, che scelgano quello che può essere per loro il miglior percorso e che lo facciano, però l'interlocuzione con la regione c'è stata, c'è sempre stata, quando a un certo punto c'è qualche, insomma l'architetto Tomiolo dice, ma forse l'accordo di programma, benissimo, si cambia, non è un problema, però l'interlocuzione c'era già stata prima, ma non è questo che blocca il progetto, non c'è nessun blocco del progetto, ora si inizia a fare sul serio, che lo facciano.